Oh, ma quale meraviglioso benvenuto! Gli occhi niettati di terrore! Nato come spin-off di Little Big Planet, Sackboy Una Grande Avventura è un platform totalmente tridimensionale, che segue a mena dito le regole del genere. Non inventa nulla, né tenta di dar forma a un'esperienza indimenticabile, ma riesce comunque a garantire molte ore di divertimento, adatto davvero a tutte le età. Esordendo in formato cross-gen, il pupazzo di pezza di casa Sony gioca con la leggerezza e la creatività, facendo leva su una gran mole di livelli e su una spropositata quantità di strumenti di personalizzazione. Prima di proseguire, come sempre, vi ricordiamo di iscrivervi al canale per supportare il lavoro di EvryEye.it e non perdervi nessun aggiornamento sul mondo dei videogiochi. Sul versante narrativo, la battaglia contro il perfido Vex che ha reso schiavi tutti gli abitanti del villaggio di Vandolo è un semplicissimo pretesto per catapultarci in ambientazioni costruite con l'intento di far sorridere adulti e incuriosire i bambini. Non potrebbe esserci un incipit più tradizionale per questo colorato platform 3D. La storia raccontata dal team di Sumo Digital è intrisa di buoni sentimenti, di umorismo fresco e pimpante e anche di una caterva di personaggi strampalati. La trama di Sackboy si dipane insomma tra un siparietto e l'altro, propone tempi comici ben annodati e beneficia di un doppiaggio in italiano ottimamente caricaturale. Nella sua ingenua semplicità, l'opera è la quintessenza dell'allegria, e i cliché di cui abbonda rappresentano l'arma perfetta per comunicare con un linguaggio universale. Allo stesso modo della narrazione, anche il tessuto ludico segue regole cucite da anni e anni di evoluzione del genere. In Sackboy c'è davvero di tutto. Il platforming propone le logiche dello sviluppo tridimensionale, ma i cambi di prospettiva sono continui, e la varietà di situazioni compone un'esperienza capace di intrattenere per più di dieci ore di gioco. Il protagonista può saltare su piattaforme semoventi, prendere a pugni i nemici, utilizzare qualche gadget, raccogliere oggetti e chi più ne ha più ne metta. Il tutto finalizzato al raggiungimento del traguardo, dove verremo valutati in base al numero di sfere recuperate nel corso dell'avanzamento. Riproponendo tutte le meccaniche del platform, Sackboy si dimostra un riassunto ben riuscito del genere, pur con qualche inciampo qualitativo legato soprattutto al numero di livelli a disposizione. In tutto dovremo visitare cinque mondi, senza contare quelli segreti, in ognuno dei quali ci attendono circa dieci stage. La conformazione delle aree di gioco propone un level design tendenzialmente prevedibile, Sackboy si fa presto ripetitivo, e giunti al terzo mondo il senso di déjà vu comincia a farsi sentire. Ciò non toglie tuttavia che sporadicamente gli autori abbiano puntellato la progressione con un guizzo stilistico notevole. Ci sono ad esempio stage di stampo musicale incredibilmente spassosi, in cui tutto nell'ambientazione, dallo sfondo ai nemici fino ai fiori decorativi, si muove a ritmo di musica. È una trovata non originalissima ma comunque brillante, che aumenta l'atmosfera festosa che si respira all'interno del gioco. Al netto di qualche incertezza nel ritmo della progressione, con livelli molto meno ispirati di altri, Sackboy sa comunque regalare piccole perle di game design che spuntano qua e là e strappano ben più di un sorriso. Non mancano poi prove di abilità, sfide a tempo e boss fight abbastanza banali, la cui semplicità obbedisce però a un fine ben preciso, quello di intrattenere senza mai mettere i bastoni tra le ruote e i giocatori. L'importante è approcciarsi al titolo con la consapevolezza che si rivolge soprattutto a un'utenza più giovane. Una grande avventura non è un platform impegnativo. Ci sono certo momenti un po' più complessi di altri, ma nell'insieme il tasso di sfida è volutamente tarato verso il basso. E va bene così. Data la sua natura e il target di riferimento, possiamo affermare che la difficoltà risulta adeguatamente bilanciata. Per alzare un po' la complessità potrete cercare di completare l'avventura al 100%, così facendo dovrete impegnarvi nel cercare tutte le sfere sognanti nascoste nei livelli, calcolare bene i tempi di ogni salto per infrangere i record e chiamare a raccolta qualche amico o familiare per superare i livelli cooperativi. Al momento è presente solo la co-op locale, e quella online arriverà più avanti con un aggiornamento. È proprio in multiplayer che Sackboy esprime a pieno le sue potenzialità, massimizzando sia le qualità del level design, sia il coinvolgimento che l'esperienza è in grado di offrire. Sul piano grafico il mondo di gioco sembra costruito a mano. Tessuti dalle trame ben in evidenza, sfondi di cartone in movimento, architetture rappresentate da mobili giganteschi, sono gli elementi distintivi di un'opera di sicuro impatto. Al netto di un colpo d'occhio molto gradevole, alcune soluzioni scenografiche tendono a ripetersi lungo le decine di quadri che affronteremo. Al di là di un livello di dettaglio assai pregevole, la versione PS5 beneficia ovviamente delle caratteristiche del DualSense, implementato tanto con intelligenza quanto con moderazione. Anche se siamo comunque ben lontani dalle sensazioni prorompenti di Astro's Playroom, il feedback aptico e i grilletti adattivi vengono sfruttati in maniera adeguata, pur senza prendere mai il sopravvento sull'azione. L'esplorazione è infine incentivata da un enorme numero di collezionabili per la personalizzazione, da raccogliere nei livelli o da acquistare nel bazar del buffissimo venditore Zom Zom. La gamma di elementi estetici è pazzesca e dà vita a combinazioni assurde. Sackboy è dunque una festa alla quale tutti sono invitati. Un platform colorato e divertente, ricco di contenuti e con un livello di difficoltà adatto ad un pubblico molto giovane. Soffre di un ritmo non sempre ben bilanciato e non mantiene uno standard qualitativo omogeneo per tutta la sua durata. Pur senza brillare per originalità, l'opera di Sumo Digital propone comunque qualche guizzo artistico decisamente intrigante, con livelli musicali e una grande dose di personalizzazione, capaci di svettare su tutto il resto dell'offerta. In definitiva, Sackboy è un platform schietto e genuino, che ha la stoffa per convincere gli appassionati del genere.